La scorsa settimana si diceva, lo diceva anche Chiara Cozzetto di ANEF, che questi decreti fossero alla firma. Ecco Sonia, che cosa sappiamo di più in base anche alle tue informazioni? Sì, confermo che sono alla firma perché il Ministero stesso dell'Università e della Ricerca sta contattando alcuni Atenei proprio informando relativamente al fatto che il decreto sta per essere firmato e di conseguenza quindi sta cominciando ad avvisare per invitare gli Atenei a organizzarsi e da quanto è stato detto così in maniera informale il Ministero vorrebbe che si iniziassero i percorsi abilitanti in questo anno accademico nonostante ormai siamo alla fine dell'anno scolastico e quindi questo sicuramente comporterà dei problemi relativamente al tirocinio diretto a mio avviso non si riuscirà a svolgerlo comunque all'interno di questo anno scolastico perché non ci sarebbero le tempistiche il tirocinio diretto alla fine, se anche si iniziasse in questo anno accademico, però slitterebbe comunque al prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda quello in diretto invece il Ministero sembra intenzionato a voler far partire le procedure per nominare i tutor coordinatori e quindi in tal caso si potrebbero utilizzare anche i mesi estivi. Ma parliamo comunque di ipotesi perché sappiamo bene che poi all'atto pratico quello che conta sono le tempistiche di pubblicazione dei decreti e poi le tempistiche reali. Gli atenei comunque avranno bisogno di qualche tempo tra la pubblicazione del bando, le iscrizioni e soprattutto la selezione dei partecipanti perché benché ci sia una selezione per titoli, almeno per questo primo ciclo, comunque anche questa richiederebbe molto tempo perché saranno sicuramente tantissimi partecipanti. Bene, quindi praticamente siamo allora a questo punto al cognome dei vari...